Un museo a cielo aperto. Oggigiorno con i vari apparecchi, smartphone, reflex, tutte le compatte e tutto, è diventato un po' di parole il museo a cielo aperto e diciamo che non si compra più come prima. Per le persone facendosi la foto, su 10, 6 o 7 sono anche, non obbligati, si sentono obbligati di magari acquistare anche un piccolo cornetto, questo lo faccio maggiormente per la pubblicità. Stamattina quante persone sono messi in posto? Guarda, perché ho problemi di spazio, ecco, più coraggiosi, devo fare rischio alle modifiche, ma penso che stamattina di cina di persone si sono... Turisti italiani? No, bambini, per ora turisti, sì, non italiani, per l'italiano anche, però stesso fra di noi, fra noi commercianti, c'è stata proprio la voglia anche di altri negozi di farsi da quello che ho detto. Spero che vada bene, ma penso che possa andare.